L'idea del disegno si ispira alla simbologia legata al concetto di anima. Un'ala di farfalla stilizzata si delimita su una superficie verticale tramite la sua assenza. Il vuoto proietta la luce su un corrispettivo sagomato e con un gioco di segni ed ombre ricompone l'immagine di una farfalla immateriale. La crisalide è l'uomo con le sue infinite potenzialità. Le sue azioni materiali animano la speranza di tante persone. Il premio anima ne è la dimostrazione. E valorizza tutto questo. Premia le cose bellissime che ogni uomo può fare.